Dopo i cinghiali nel mirino dei cacciatori finiranno anche cervi e caprioli, specie cacciabili in alcune regioni, non in Abruzzo. E la denuncia del WWF che ha presentato la campagna La Natura si ammira, non si uccide. Secondo l'Associazione Ambientalista, la regione si prepara ad approvare in alcuni distretti territoriali la caccia di selezione delle due specie, cioè un abbattimento pianificato per numero e territorio. Le motivazioni sembrano essere sempre le stesse, evitare presunti danni che possono provocare alle colture e scongiurare il pericolo di incidenti. Una decisione che però il WWF è pronto a contrastare con fermezza perché, oltre ad essere un altro regalo ai cacciatori, non è suffragato da un serio approccio scientifico, come sottolinea la delegata regionale Filomena Ricci. Per decidere di intervenire su una popolazione faunistica è necessario avere degli studi scientifici solidi, dei conteggi fatti in modo ripetitivo negli anni e in modo standardizzato. La regione invece vuole aprire facendo adesso dei conteggi e facendo un piano di prelievo già per la prossima stagione venatoria, cioè per settembre. Il tempo non c'è, né si possono usare dati presi nelle scorse annualità in maniera discontinua e non standardizzata. Riteniamo che si debba intervenire in altro modo, bisogna fare un piano di prevenzione per esempio contro i danni che questi animali in alcuni casi possono provocare, per esempio alle coltivazioni agricole. Ci sono i recinti elettrificati, esistono repellenti visivi olfattivi, si possono costruire dei sottopassi e dei sovrappassi per ridurre il rischio di incidenti. Siamo sicuri che gli abruzzesi vogliono continuare a vedere queste due specie così belle, emblematiche, iconiche della nostra regione, libere di vagare sulle montagne, perché rappresentano anche un punto di forza. L'Abruzzo è conosciuto fuori per la sua fauna, per la sua natura selvaggia. Non possiamo far diventare le nostre specie dei bersagli di cacciatori. Era stata mai fatta una cosa del genere in Abruzzo? Su Cervo e Capriolo no, ci provano diciamo da diverso tempo, però non si era mai arrivati a una decisione così imminente.